Pochi giorni per rendere magici i prossimi tre anni. Fino al 6 gennaio, classe A e classe B con tre anni di RC auto inclusi. Scopri l'offerta. Un provvedimento di interdizione e sospensione dei pubblici uffici è stato notificato da Arturo Iannacone, dirigente medico dell'ASL, ex consigliere regionale e parlamentare, attualmente assessore alle attività produttive e fondi europei del Comune di Avellino. Il provvedimento, firmato dal GIP del Tribunale di Avellino Antonio Sicuranza, è stato notificato a Iannacone dagli agenti della squadra mobile di Avellino nell'ambito dell'inchiesta scattata nel marzo scorso sull'assenteismo presso l'ASL di Avellino. Alla luce delle nuove risultanze emerse dalle indagini in corso, Iannacone, specialista ambulatoriale di chirurgia, avrebbe sistematicamente messo in atto una condotta assenteista timbrando il cartellino, senza però prendere servizio al suo posto di lavoro. L'inchiesta Begg Malati, coordinata dalla procura di Avellino, portò alla scoperta di 21 dipendenti che, dopo aver timbrato il cartellino, non mettevano piede in ufficio. L'inchiesta, condotta dal capo della squadra mobile Marcello Castello, fece emergere anche un rodato sistema di copertura reciproca tra i furbetti del cartellino e, nelle clamorose immagini filmate dalle telecamere installate e dagli investigatori, alcuni dipendenti, consapevoli della presenza di telecamere nascoste, sono ripresi mentre rivolgono gestacce e frasi di scherno all'indirizzo degli investigatori.